Patologie cardiache, giornata di prevenzione. Test per consiglieri e dipendenti regionali per sensibilizzare sulla prevenzione delle malattie del cuore e del sistema vascolare. Fondazione Elba i primi dieci anni in consiglio regionale il bilancio dell'attività di promozione e sviluppo dell'isola. Il consiglio regionale della Toscana ha acceso i riflettori sull'importanza della prevenzione cardiovascolare con una giornata di sensibilizzazione sull'ipercolesterolemia. Consiglieri e dipendenti hanno potuto effettuare lo screening del profilo lipidico che ha incluso anche il test della lipoproteina, fattore di rischio genetico che contribuisce ad aumentare la probabilità di sviluppare patologie cardiovascolari. L'iniziativa è stata promossa dalla Commissione Sanità, dall'Associazione Italiana Scompensati Cardiaci e dalla Fondazione Italiana per il Cuore. Lo scopo sensibilizzare le istituzioni su strategie e interventi mirati per affrontare la crescente incidenza delle malattie cardiache. La giornata si è aperta con la conferenza stampa in cui è stata ribadita l'importanza del monitoraggio del profilo lipidico come uno dei principali strumenti di prevenzione. La misurazione e il controllo di quello che noi definiamo assetto lipidico, che comprende la misurazione dei livelli di colesterolo e di trigliceridi, è fondamentale per determinare il rischio cardiovascolare di un soggetto, quindi la probabilità che possano verificarsi negli anni futuri degli eventi cardiovascolari. Parliamo delle patologie che pesano di più da un punto di vista epidemiologico nel mondo occidentale e quindi ovviamente una valutazione di grande rilevanza. La lipoproteina che viene rilevata, che cos'è per spiegare? La lipoproteina a piccolo, si chiama così, è un grasso circolante simile al colesterolo che è totalmente legato alla sintesi epatica e determinato geneticamente. questo vuol dire che al contrario del colesterolo e dei trigliceridi che in grande parte possono essere modulati dallo stile di vita, la lipoproteina a piccolo è invece determinata soltanto dalla genetica, quindi ognuno di noi ha i livelli che la natura gli dà e in qualche modo ce li dobbiamo ottenere e sappiamo che questa lipoproteina in livelli molto elevati determina un aumento del rischio di eventi cardiovascolari che è anche addirittura indipendente da quelli del colesterolo e LDL e quindi è un marcatore aggiuntivo di rischio cardiovascolare che noi conosciamo da molti anni, almeno dal fine degli anni del 1960 che conosciamo la lipoproteina piccolo, soltanto adesso diciamo si è un po' risvegliata l'attenzione anche dell'internazionale perché si sono finalmente, si stanno diciamo identificando delle molecole che sono capaci dal punto di vista terapeutico di ridurne in modo efficace i livelli. C'è una differenza, abbiamo visto che con l'andare avanti dell'età aumenta il colesterolo, c'è una differenza tra uomo e donna? Le donne hanno livelli aumentati non soltanto in rapporto all'età avanzata ma anche dopo la menopausa e quindi la menopausa è quel momento in cui è necessario avere un'attenzione maggiore per il sesso femminile, per una valutazione appunto di questo profilo di rischio perché quelli che noi siamo abituati a considerare a dire abbiamo livelli sempre nella norma, quando cominciamo a arrivare in peri menopausa si possono essere delle modificazioni che richiedono una grande attenzione, una grande attenzione che deve essere da parte del personale medico ovviamente ma anche soprattutto nostra, da parte della popolazione perché le donne, questo lo sappiamo, hanno poca consapevolezza dell'importanza del rischio cardiovascolare, le donne vivono più a lungo ma muoiono di più proprio di patologie cardio e cerebrovascolari per cui il controllo dei fattori di rischio, prima di tutto il colesterolo è fondamentale per le donne, invece tutti i dati, anche quelli nostri della Toscana ci fanno vedere che le donne sono trattate meno e peggio e quindi qui bisogna lavorare sia sul versante della popolazione che sul versante del personale medico. Quanto conta lo stile di vita? Possiamo dare qualche consiglio a delle donne che ci stanno ascoltando? Cosa fare? Lo stile di vita è fondamentale perché è sempre condizio sine qua non, si parte sempre da quello, poi anche se ci fosse bisogno di una terapia farmacologica comunque se lo stile di vita è buono la terapia può essere meno intensa, quindi sicuramente l'attività fisica, l'attività fisica è fondamentale, è costante e se le donne non l'hanno mai fatta il momento della permenopausa è il momento ideale per iniziare, iniziare ad andare a camminare, camminare 40 minuti, 3 volte a settimana, cominciare anche dalle cose più semplici, naturalmente la dieta che sia povera di grassi saturi, ricca di quegli elementi che sono propri della nostra dieta mediterranea, il pesce, la frutta e la verdura. Purtroppo anche in questo senso i dati epidemiologici ci dicono che la nostra popolazione si sta allontanando dalla dieta mediterranea, quindi noi saremmo favoriti dalla nostra cultura in questo senso, ma purtroppo le abitudini ci stanno spostando e quindi dobbiamo anche in questo senso lavorare, questa volta forse proprio addirittura a livello della scuola, per recuperare l'importanza di questo tipo di alimentazione. Davvero importante il colesterolo, insomma lo sappiamo tutti, l'ipercolesterolemia è un grosso fattore di rischio, io lavoro in un osservatorio, quindi facciamo un'osservazione partecipata e devo dire che grazie a delle convenzioni che abbiamo con le aziende sanitarie riusciamo ad acquisire i risultati di laboratorio nel pieno rispetto alla normativa sulla privacy, quindi siamo in grado di valutare i livelli di raggiungimento ai target. Che cosa dicono i suoi numeri? I miei numeri dicono che abbiamo da lavorare, abbiamo da lavorare, le raccomandazioni di linee guida aggiornate sono abbastanza esigenti in termini di raggiungimento ai target di colesterolo però diciamo che facendo riferimento a queste raccomandazioni una consistente proporzione di persone, soprattutto a rischio alto e molto elevato, non sono a target per l'ipercolesterolemia quindi dobbiamo migliorare ulteriormente la gestione dei nostri assistiti con problemi di ipercolesterolemia. Poche gocce per controllare che cosa? Il colesterolo e soprattutto il colesterolo LDL che sarebbe il colesterolo tra virgolette cattivo, cioè quello associato a un aumento di rischio delle malattie cardiovascolari, cioè dell'infarto e dell'ictus. Controllarla è importante perché riuscire a contenerne i valori, i livelli entro limiti accettabili può significare ridurre in maniera sostanziale il rischio di sviluppare un infarto o un ictus e di conseguenza aumentare la propria aspettativa di vita sana. C'è anche un altro valore che viene analizzato oltre al colesterolo? Oltre al colesterolo si misura normalmente anche il valore dei trigliceridi che pure contribuiscono a determinare il rischio di malattie cardiovascolari e che sono anche associati al rischio di altre malattie come ad esempio la pancreatite. Che cosa fare per il colesterolo alto? Si parla di stile di vita? Quanto può incidere sia l'alimentazione ma anche il movimento? Alimentazione corretta, dove corretta significa un'alimentazione che non sia troppo ricca di grassi saturi, quindi dove siano limitati i grassi animali, dove siano limitati i grassi e anche gli oli vegetali cotti, quindi preferire oli vegetali crudi rispetto a grassi animali o grassi cotti e con contenimento anche dei cibi più ricchi di colesterolo come possono essere ad esempio le uova. Questo è sicuramente un elemento che può contribuire a controllare meglio il livello di colesterolo LDL. L'attività fisica in realtà non incide moltissimo sui livelli di colesterolo LDL ma ha il vantaggio di far aumentare i livelli di colesterolo HDL che sarebbe il colesterolo buono, quello che quando aumenta riduce il rischio. Questi fattori sono sicuramente importanti, danno un contributo, però attenzione rispetto ad altri parametri metabolici come i trigliceridi o come la glicemia, il colesterolo risente meno degli stili di vita perché è molto anche sotto il controllo della genetica. Quindi c'è anche una predisposizione familiare? C'è una predisposizione familiare importante, i livelli di colesterolo LDL poi tendono ad aumentare progressivamente con il passare dell'età come parte del normale processo di invecchiamento ma questo aumento è condizionato molto dalla genetica, un po' come i capelli bianchi che se non cadono prima imbiancano, prima o poi, ma in età diversa da una persona all'altra sotto sostanzialmente il controllo anche di fattori genetici. Proprio l'importanza di questi fattori genetici fa sì che quando il colesterolo è realmente alto sia comunque necessario anche il farmaco per riportarlo sotto controllo. Un'ultima domanda, può una donna in menopausa non avere problemi prima e dopo la menopausa avere problemi di colesterolo alto? Naturalmente sì, per il fatto proprio del progressivo processo di invecchiamento. Attenzione, non è tanto la menopausa che fa aumentare il colesterolo. La menopausa si associa certo ad un aumento del rischio di malattie cardiovascolari di per sé rispetto alla fase pre-menopausa ma per altri motivi, per motivi di tipo ormonale. Per quanto riguarda specificamente il colesterolo non è la menopausa ma sono gli anni che avanzano che comportano anche la menopausa. La fondazione Isola d'Elba ha celebrato i suoi primi dieci anni di attività. Il bilancio di questo decennio è stato fatto con una conferenza stampa a Palazzo del Pegaso. La fondazione conta 340 soci ed è impegnata al fianco dei cittadini e delle attività dell'Elba per accompagnare e sostenere lo sviluppo dell'isola dedicandosi ai settori della cultura, dell'ambiente, della sanità, dell'istruzione e dell'economia. Sono molto contenta di essere qua a Firenze in Consiglio regionale. Ringrazio l'opportunità che abbiamo avuto. Ringrazio il consigliere Marco Landi per questa presentazione che stringe ancora di più i legami fra l'isola e il continente che è un po' il nostro obiettivo, quello di uscire dai confini dell'isola per portare sempre nuove opportunità anche nel settore del sociale, della cultura, quelli che sono i temi dell'ambiente, che sono i temi sui quali si sta muovendo la fondazione ormai da dieci anni. Quindi sono contenta di essere qua in Regione, ma sono anche molto contenta che sia il decennale di questa fondazione che è nata dieci anni fa e quindi noi onoreremo questo compleanno e anche questa attività che abbiamo svolto in questi dieci anni con delle iniziative che faremo a Portoferraio il 4 di maggio e oltre ovviamente a invitare i soci 340 della nostra fondazione vogliamo anche invitare tutte le persone che vogliono avvicinarsi a noi, all'isola d'Elba, alle nostre attività e quindi benvenuto a tutti. Diffonderemo con la stampa e con i media il programma delle iniziative che comunque comprendono un convegno al quale parteciperanno molte persone che si occupano di cultura sociale di impresa e anche di volontariato e anche di cittadinanza attiva. Quindi organizzeremo questa tavola rotonda, poi ci sarà una scena e successivamente uno spettacolo, guarda caso, dedicato alla famiglia Olivetti e quindi a un imprenditore responsabile che teneva moltissimo al proprio territorio. Come facciamo noi della fondazione? Diciamo che la fondazione si occupa a tutto tondo dei problemi dell'isola, delle sue necessarie valorizzazioni sotto tutti gli aspetti sociale, economico, produttivo, ambientale. quindi i progetti sono molti, probabilmente questa non è la sede di elencarli tutti. Sicuramente la cosa che è importante capire è come un'associazione come la nostra che è nata per pulo volontariato da parte di persone che amano questo territorio ha trovato veramente l'aiuto spontaneo di tante persone che hanno voglia di fare qualcosa per la propria terra, per la propria isola, che proprio perché isola delle particolarità che devono essere in qualche modo esplicitate per essere trasmesse nel giusto modo anche al di fuori, altrimenti è una realtà che rischia di non essere compresa, anche nelle sue grandissime potenzialità. Il Consiglio regionale ha premiato con una coppa l'associazione sportiva Box Mugello per il primo posto nazionale tra le società organizzatrici e per il prezioso contributo a tutto lo sport toscano. È una grandissima soddisfazione che ci ripaga di un impegno ormai più che quarantennale ma che in particolare l'anno scorso ci ha visti protagonisti nell'organizzazione di eventi pugilistici che appunto ci ha portato ad essere la prima società in Italia nella speciale classifica della Federazione Pugilistica Italiana e appunto ci ripaga di tantissimi sacrifici tenuto conto che l'anno scorso abbiamo organizzato 24 manifestazioni in un anno, quindi una media di una ogni 15 giorni, che hanno comportato un grossissimo sforzo non solo economico ma anche e soprattutto umano e psicologico perché comunque la società è piccola però ciò nonostante siamo riusciti a tenere il passo delle grandi società, delle metropoli italiane. Io dovrei per primo, in primis, ringraziare il Consiglio regionale per l'attribuzione del premio che penso sia meritato perché la società nostra è stata fondata nel 1982, è sempre stata fra i primi posti in Italia e quest'anno addirittura ci siamo classificati primi nell'organizzazione. Tanta roba perché aveva organizzato 24 manifestazioni nell'anno precedente, questo è un riconoscimento penso più che meritato. Ci aspettiamo dal territorio del Mugello e del Borgo San Lorenzo una soddisfazione in più come viene riconosciuta qui in questa sala perché ci sono dei problemi da risolvere quindi io mi auguro che il buon senso regni e vi ringrazio per questo invito e questa premiazione. Grazie a tutti.